La relazione con il cliente è gestita tramite i nostri addetti e tramite un'analisi di tutte quelle che sono le recensioni che arrivano dai vari canali digitali. Per quanto riguarda la proposta dei banchi freschi online, il nostro obiettivo è quello di proporre lo stesso catalogo che è il programma del fisico anche nell'online, cercando di uguagliare la proposta. Io nel futuro vedo nel Sud Italia una concentrazione dei poteri decisionali, vedo un futuro con meno attori e con meno centri decisionali. Con l'avvento del discount ci sarà per forza un bisogno di unirsi e di fare massa critica da parte dei distributori. Per me non è la prima volta che partecipo a un evento Retail Hub, come sempre la cosa che mi porta a casa è l'opportunità di confrontarmi con più realtà e con anche dimensioni non sempre grandi, che però trovo sempre estremamente interessanti. Inoltre trovo sempre molto interessanti interventi e innovazioni che vengono proposti.